Ho iniziato a giocare a calcio intorno all'età degli 8-9 anni, dopo aver provato quasi tutti gli sport, però da subito ho capito che il calcio mi dava qualcosa di più e ho deciso di proseguire su quella strada che mi ha portato fino a qui. Per me le giovanili azzurre hanno rappresentato un percorso importante perché dall'Under 16 fino ad oggi mi hanno aiutato a crescere, sia come percorso di vita che come percorso calcistico. Non è facile da raccontare a parole perché è un sogno a cui ho sempre pensato e che ho sempre cercato di raggiungere in qualche modo, fino ad arrivare ad oggi in cui non ho ancora ben realizzato dove sono e cosa sto facendo, però spero per manga il più possibile. Per me la maglia azzurra ha sempre rappresentato qualcosa che ti porta a dare di più, sia nel campo sia fuori, quindi è un po' un simbolo che ti aiuta a dare più di quello che dai di solito. Spero di rimanere in questo gruppo il più possibile dando tutto quello che ho e poi chissà un giorno arrivare a raggiungere un mondiale o comunque vincere qualcosa con la maglia azzurra.